Forse canterà il primo atto in borghese, hanno detto, le voci? Ma io ci mettevo tre minuti a rispondere, però c'è vero questa cosa qui che credo sia stata scritta in un libro che Mr. B, tutte le volte che cantavo Trovatore io, non cominciava l'opera finché io non andavo, siccome io cevo FIFA e non andavo dentro prima di mezz'ora, io al massimo, al massimo, al massimo, arrivavo alle 8.30 per cantare l'opera. C'era niente da fare, perché mi pigliava un patè, ma dai, mi incominciava a bocca cattiva questa e quest'altro, che invece di... E poi passava davanti al camerino di Guelfi, no? Ciao Franco, come va? Vale. La risposta.